Buongiorno, a niente grazie, uh grazie. C'è l'inaugurazione. Quindi, benvenuti alla decima edizione di giocamostra. Mai avevamo immaginato un compleanno così, così popolato e così giallo dieci anni fa. Capitano già basta, a lei la parola. E' arrivato finalmente il momento di mostrarvi tutti i nuovi spazi che questa giocamostra 2018 ci regala. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La mattinata di Giocaosta inizia con una serie di problemi tecnici molto molto simpatici che sono stati risolti in questo momento in maniera molto professionale da questo accrocchio. Sempre presente nel padiglione abbiamo chiaramente il punto selfie. 5, 4, 3, 2, 1, selfie! Il selfie che abbiamo appena fatto è chiaramente una schifezza. Sono le 11 e 20, ma io ho già fame. Le nostre volontarie stanno arrivando con il carretto del pane. Buono il pane! Buono! 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 Quando è che posso venire a mangiare tutto questo pane? Buono! 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 Come andiamo? Siamo piano in affettamento. È bello? Bello! Molto bello! Anche perché c'è mia nipote! Eh bello! Eh! Male della nipote! Dobbiamo andare in radio e siamo in ritardo! Dalle 18 alle 24... Ok radio finita ma adesso c'è il momento fondamentale della giornata. Il panino! Senza glutine! Oh ma c'è la coda! Questa è la coda per il panino. Ci vorrebbe Alessandro Borghese. Ciao! Sono Luca Borghese e oggi giudicherò il punto panino. Darò un voto da 1 a 10 a location, servizio, menù e conto. Andiamo! La location del punto panino è piccola, curata ma funzionale. Infatti gli ho dato 8. Attenzione perché tocca a me e al mio panino. Ciao! Vorrei insalata, prosciutto, cotto. Il servizio mi sembra rapido e funzionale. Ottimo! Scusi, una domanda al volo. La maionese è a chilometro zero. Ottimo, andiamo. Si staccano i baffini. Il panino è fatto bene e la consistenza è ottima. Infatti al menù ho dato 10. Perfetto. L'attro dei sottotitoli. E' un bel piacere. È un bel piacere. Perfetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Attenzione, abbiamo un evento del giorno perché qui qualcuno deve cambiare il fannolino. Ah, sì. Ah. Questo è il padre con il prodotto invece. E quindi? Quindi lanciamo. Abbiamo preso degli yogurt, tra cui uno per Davide Cazzatore. L'ha detto al punto gioco, per gli amici punto G, che abbiamo preso uno yogurt al cocco. Ti piace il cocco? E' un po' di salle. Adoro il fanno. Adoro il fanno. Adoro il fanno. Caccia il tesoro partita, circa mille persone stanno girando come dei pazzi. in giro per il centro di Aosta. E io sono già stanchissimo. Un grosso applauso! Grazie a tutti, buonanotte a tutti! Un applauso ancora! Un applauso a presenti a tutti! Ok, decima edizione si sta chiudendo in questo momento. Noi stiamo già iniziando a smontare tutto, perché chiaramente dobbiamo andare a mangiare. E niente, è finito. Allora, ci vediamo l'anno prossimo. Forse! Abbiamo finito! E adesso come facciamo? Sì, sì, rilassiamo.